Buongiorno a tutti, tornate al vostro posto e consigliate i cartelli, tornate nelle vostre mostrazioni, la seduta sospesa. Ma dimmi che non potevano sospenderla prima a questo punto. Eh sì, è quello che si sospende. Dovrebbe più bello sospenderla prima. Grazie. Grazie. Sto registrando stanzionato. Sì, sì. Le ho puntate. Le hanno tolte i cartelli e hanno occupato Laura per provogli di voto segreto. Aspetta, aspetta, quando registriamo che devo mandare...